buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di pano tv oggi è mercoledì 31 gennaio 2024 vediamo subito qual è il santo del giorno oggi è un santo importante san giovanni bosco eccolo qua nella immagine è un piemontese piemontese visse ovviamente nel diciannovesimo secolo nel 1800 e fu il prete dei ragazzi ne radunò tanti a torino tra quelli abbandonati viziosi destinati alla galera fondò la congregazione della pia società di san francesco di sales e i salesiani che sono poi diffuse in tutta italia ma anche in altri paesi i salesiani sacerdoti e laici che aprirono oratori collegi scuole ospizi tra questi ragazzi ne emerge uno in particolare domenico savio anche lui santificato fu uno dei ragazzi che don don giovanni accolse nella sua istituzione torinese e lo crebbe nelle ovviamente nelle santità che proponeva la chiesa cattolica fu un grande santo per i ragazzi questo è san giovanni bosco vediamo ora le previsioni del tempo ormai sono diversi giorni che vediamo che il cielo è sereno nel nostro territorio rimane l'alta pressione tempo stabile con passaggio di nubi alte nel corso della giornata fa molto freddo attenzione gelate al mattino nelle aree vallive interne venti deboli deboli sulle coste da nord e nord ovest nell'interno da ovest la temperatura è ancora in calo meno uno ieri meno due oggi la massima si attesta a sei gradi il sole sorge alle 7 27 e tramonta alle 17 e 13 ed ora lasciamo le previsioni del tempo per dare un'occhiata ai giornali e vediamo subito il resto del carlino con un articolo di apertura un po particolare insomma è uno degli articoli firmati da maurizio gennari cucchiarini scherzo di carnevale la tessera da 15 euro non la faccio ebbene maurizio gennari ha puntato alla sua attenzione sull'assessore e sarà cucchiarini della giunta fanese che risalterebbe come unica che non ha rinnovato no che non ha acquistato diciamo così e la tessera dall'ente carnevalesca e quindi non si è tesserata per il carnevale di fano che cosa sarebbe mai accaduto ebbene lo vediamo in questa intervista provocatorio gennari dice taccagna taccagna assolutamente no risponde sarà occhiarini è stata una scelta dettata da altre motivazioni e quali sarebbero queste motivazioni forse perché la presidente dell'ente carnevalesca è tesserata fratelli d'italia ebbene no dice ancora sarà cucchiarini potete chiamare a questo proposito la stessa interessata maria flora giammarioli qui si sta parlando del carnevale che è una manifestazione molto importante e sentita da tutta la città carnevale che non avrebbe che non dovrebbe avere né preferenze di destra né di sinistra e quindi nemmeno tessere di partito quindi lei che ha fatto faccio un esempio per esempio risponde Sara abbiamo cercato di anticipare gli stanziamenti messi a bilancio nel 2023 proprio per facilitare il lavoro della carnevalesca che è presceduto da una tesserata di fratelli d'italia insomma questo un po è il senso del dibattito e poi ci sono altre risposte a domande un po diciamo così un po inconsuete un po indiscrete che le vengono fatte comunque una intervista curiosa da leggere poi vediamo fondo pagina invece è una bella manifestazione il giro baccalà il giro baccalà organizzato nel baccalà feste dall'associazione i viandanti dei sapori che propone il gusto di questo piatto tipico della tradizione contadina il baccalà non è un prodotto del nostro territorio ma è stato ormai adottato da tanto tanto tempo quando i contadini che non potevano mangiare il pesce fresco perché ovviamente risiedevano nell'entroterra acquistavano il baccalà salato oppure lo stoccafisso affumicato e lo condivano con pomodori patate insomma facevano dei piatti veramente succulenti allora era un piatto povero oggi invece è un piatto ricco in modo particolare di sapori e di tradizioni che vengono valorizzate dall'associazione i viandanti dei sapori ed ora parliamo di politica perché si è mosso il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli Acquaroli pressa i partiti sbrigativi a indicare chi è il candidato sindaco della coalizione di centrodestra sono stati convocati i segretari dei partiti ad Ancona per trovare una sintesi sul nome del candidato oggi si chiude il cerchio con forza Italia ebbene mentre il centrosinistra fanese annaspa ormai tra le primarie il campo largo le primarie che vorrebbe il centrosinistra mentre i cosiddetti progressisti li rifiutano risolutamente il presidente della regione ieri pomeriggio ha chiamato a raccolta i partiti del centrodestra per responsabilizzare le segreterie ad accelerare i tempi e a nominare il candidato i segretari provinciali di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia e Udc sono stati ricevuti non in un unico incontro ma in incontri separati con i quali magari si è discusso adesso questo parola non emerge ha discusso anche chi potrebbe occupare questo ruolo importante del prossimo candidato sindaco di tutta la coalizione e sulla convocazione delle segreterie cittadine insiste anche l'assessore regionale Stefano Aguzzi candidato sindaco lui stesso per Forza Italia che a pochi mesi dal voto sottolinea la mancanza di una linea politica del centrodestra cittadino che non si è neppure mai riunito questo un po' è l'accusa di Aguzzi il quale sollecita appunto un'attività più più pressante più sul campo da parte dei partiti della coalizione avversaria al centro-sinistra. Una denuncia dell'associazione Lupus in Fabola di spalla sul resto del carlino radici degli alberi tagliati per farle entrare in mini aiuole hanno tagliato le radici degli alberi fino a 15 centimetri di diametro per farle entrare nell'aiuole di un metro e 45 questo è la denuncia di Lupus in Fabola per quanto si sta facendo in viale Cesare Battisti dove è in atto la valorizzazione il rifacimento delle piste laterali e quindi dei parcheggi degli alberi e della pavimentazione insomma si rifà anche l'asfalto si è fatto la parte di sinistra verso il lungomare e tra poco si procede per quella di destra che è la più usurata la più brutta in questo caso la più rovinata. Ed ora parliamo di quello che è avvenuto ieri la cerimonia di addio per Sara la sorella del assessore al turismo Etienne Lucarelli ci ha insegnato ad amare la vita musica balcanica per l'addio a Sara. Sì alla fine della cerimonia funebre all'uscita della chiesa mentre la bara veniva caricata sul sull'auto funebre ebbene un'orchestrina e gli amici gli amici dell'obelisco nero hanno suonato delle marcette delle musichette di origine balcanica erano marcette allegre che ispiravano alla valorizzazione della vita alla gioia per la vita quello che aspirava e quello che esprimeva Sara Lucarelli. Tanta la partecipazione e le lacrime per il funebre di questa mamma che ha una bimba di cinque anni che proprio in quella chiesa nel settembre scorso si è sposata con il suo Alessandro. È morta a 44 anni vinta da una grave malattia. Lo struggente saluto del fratello di Etienne Lucarelli al termine della cerimonia. L'assessore ha detto ogni cosa per te era piena di gioia e ovviamente il dolore di tutti è stato veramente grande per la perdita di questa persona troppo giovane per morire a quella età. Sara 44 anni lascia il marito Alessandro e una figlia di cinque anni. Ebbè insomma una tragedia che si è verificata. Veniamo all'altra notizia, la notizia di spalla. Si parla di una incursione dei ladri. Nel weekend scorso sono state veramente decine le segnalazioni al 112 in merito alla presenza di persone sospette nei vari quartieri della città. È carnevale e quando ci sono delle manifestazioni particolari queste cose attirano l'attenzione dei ladri perché sanno che molta gente è fuori casa e quindi adocchiano gli appartamenti che riescono poi ad invadere, a penetrare negli stessi per poi rovistare tutto e fare man bassa di quello che trovano. Vedete come lasciano poi una stanza dove hanno buttato all'aria tutto mobili, superlettili, oggetti insomma hanno devastato un po' il tutto. Ebbene in questo caso sono entrati in un appartamento e quando a Sant'Orso, quando i proprietari erano usciti di casa, hanno buttato all'aria tutto insomma e hanno preso quello che hanno potuto prendere, roba di poco conto comunque, però è stato più il danno che il bottino. Giriamo ora la pagina e siamo a San Costanzo. A San Costanzo si parla già di Pasqua e si prepara un gigantesco uovo fatto all'uncinetto. Alto sei metri e fatto all'uncinetto. Ecco l'uovo di Pasqua da Guinness. Trenta donne all'opera per l'impresa. Servono 252 chilometri di filo per ricamare 7.000 rose. E questa è l'ingente opera che si accingono a fare queste signore che vengono coordinate da Donatella Cocci, proprietaria di un negozio di biancheria che ha coinvolto anche la Proloco. E ultimamente, proprio nel periodo di Natale, si è fatto anche una rappresentazione della Santa Famiglia con il bambino tutta all'uncinetto e ora si fa la stessa cosa di Pasqua. Insomma, veramente, questi signori sono instancabili e meritano un applauso per la loro maestria. A Urbino il Comune comprerà l'ex fornace Volponi. L'annuncio è stato dato dal sindaco Maurizio Gambini alla presentazione delle celebrazioni dello scrittore. Tra poco si festeggiano i 100 anni della nascita di Paolo Volponi. Nel pomeriggio di ieri la Giunta ha approvato la transazione per l'acquisto di questa ex fornace. Si tratta di un prezzo concordato di 200 mila euro. Pensate che poco tempo fa questo stabile veniva venduto in vendita per 2 milioni e 400 mila euro. Oggi abbiamo assistito alla presentazione delle celebrazioni di Volponi, ha detto il sindaco. E ovviamente ci siamo anche noi come Comune e assieme proseguiremo con una serie di attività che illustreremo in seguito. Un programma ancora dunque da definire. Vediamo ancora la pagina dell'entroterra dove si è dato un encomio al vicequestore Simone Pineschi che ha retto il commissariato per 10 anni. Un grande riferimento per tutti. Il vicequestore della Polizia di Stato ha guidato per 10 anni il commissariato locale. Per me anni belli e importanti ha dichiarato appunto il poliziotto. Il Consiglio Comunale di Urbino gli ha conferito un encomio solenne riconoscendogli il grande lavoro fatto in tutti questi anni alla guida del commissariato della città prima del trasferimento nella città di Pesaro dove ora è a capo del gabinetto della questura. Quindi ancora in carichi di prestigio per Simone Pineschi. Vediamo anche la pagina di Pesaro sul resto delle Carlino. dove si apre con lo sport brutto, lo sport che non viene preso per esempio, quello degli insulti razziali. Il baby calciatore bersagliato insulti razzisti a tutta la partita a iniziare addirittura è stata una mamma. Ebbene è una partita che si è disputata a Fossombrone dove i genitori dei calciatori hanno cominciato a insultare un ragazzo di origini nordafricane. Si tratta di Madi a 16 anni il quale ha ricevuto tante tante offese, negro, scimmia, zingaro e poi anche altre cose brutte, peggiori che vengono date. E questi sarebbero i genitori di coloro che dovrebbero educare, dovrebbero dare degli insegnamenti di carattere etico, di carattere morale. Però in realtà questo accade. Ebbene Madi è un terzino destro dell'Adriatico. Bersaglio domenica 21 gennaio scorso di una nafica di insulti razzisti, addirittura anche mangia banane, da parte di un gruppo di tifosi genitori dei ragazzi della Forza Impronese, la squadra avversaria. Ebbene insomma anche qua abbiamo una intervista che Madi, pur minorenne, rilascia al resto del calino, ovviamente con il permesso dei suoi genitori. Cambiamo argomento, cambiamo argomento e vediamo un articolo che riguarda Sinner. Ebbene Sinner ormai è su tutti i giornali, ieri è stato ricevuto dalla Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, oggi sarà ricevuto dal Presidente della Repubblica. Ebbene l'effetto Sinner si fa sentire anche nel nostro territorio. Campi pieni e centralini intasati, sì, sono tutti pazzi per il tennis e molti si iscrivano alle società sportive. L'onda delle vittorie ha effetti positivi e immediati sui circoli cittadini. La Baratov e Baia Flaminia a Pesaro, oltre ai tanti ragazzi iscritti ai corsi, molti adulti che si erano allontanati adesso stanno tornando. Bene, vedere Sinner giocare in televisione, poi viene la voglia anche di praticare questo sport sul campo. Uno sport che alimenta l'agonismo individuale, ma soprattutto tiene bene in esercizio il fisico. Ruba il portafogli a una fedele inchiesa. La polizia lo scova grazie ai like di Facebook. Gli agenti della volante vanno a trovarlo sul posto di lavoro, grazie alle tracce emerse sul profilo della fidanzata. Ebbene, che cosa è accaduto? È accaduto che un cinquantenne ha messo le mani sulla borsa di una signora che si era allontanata dal banco di una chiesa durante la messa per andare a fare la comunione. E poi zitto zitto si era allontanato. La cosa però non è sfuggita a un altro fedele che era nei pressi, che ha avvisato la signora di quanto era avvenuto. La signora ha aperto la borsa e ha visto che non c'era più il portafogli. Per cui ha fatto la denuncia. Ebbene, gli inquirenti poi piano piano, consultando anche il web, sono riusciti a risalire all'identità del ladro. Si tratta di una persona che lavorava come artigiano e che ha confessato di aver rubato il portafoglio per fare un regalo di compleanno alla propria fidanzata. Insomma, siamo arrivati anche a questo punto. Vediamo ancora altre notizie sul resto del Carlino. Parliamo di riceci perché in questo caso la discarica ha provocato un effetto di carattere politico importante. Forza Italia abbandona la maggioranza in provincia. Via dalla maggioranza in provincia. Gambini decida da che parte stare. La coordinatrice di Forza Italia, Elisabetta Foschi, e la consigliera Fernanda Sacchi, la consigliera della provincia, annunciano l'uscita degli azzurri dalla maggioranza della provincia stessa. Decisivo in questo caso il caso della discarica. Il sindaco Durbino resta vicepresidente in un contesto di centro-sinistra. Ebbene, non è piaciuta a Forza Italia la parte che ha dimostrato, che ha recitato il presidente della provincia. In questo caso per tutta la vicenda, quindi ancora la discarica di riceci, continua a destare polemiche e chissà fin quando lo farà. Vediamo ora il Corriere Adriatico. Ecco la pagina di Fano. Abbiamo un articolo diverso, un articolo diverso che evidenzia i dati delle presenze, degli arrivi nel nostro territorio per il 2023 per quanto riguarda il turismo. Ebbene, c'è una sorpresa. L'andamento della stagione del 2023 è stata altalenante, è stata una stagione anomale, perché prima è arrivato il maltempo, poi è arrivata una situazione critica determinata soprattutto dall'effetto dell'alluvione che era stato in Romagna. Insomma, ci sono state diverse variazioni che hanno determinato un andamento altalenante. Ma alla fine, alla fine c'è stata una sorpresa. Che cosa? Ebbene, presenze e arrivi nel nostro territorio sono stati tutti con un segno positivo. Un più 1,34% di arrivi e un più 2,03% di presenze. E' stato inoltre sottolineato il positivo andamento dei flussi turistici stranieri che ha riportato complessivamente un più 9,14% negli arrivi e un più 11,38% nelle presenze. Sono i dati questi che sono stati enunciati dal dirigente del settore turismo e cultura del comune di Fano, Ignazio Pucci, nell'ambito degli stati generali del turismo. Nell'ambito della riunione di questi operatori turistici che si è svolto nel capanone della Zeppeling nello scorso fine settimana. Dunque, dati positivi che testimoniano come funzioni la strategia del turismo che è stata adottata dall'amministrazione comunale che fa riferimento su alcuni punti di forza come la Fano Marinara, come la Fano Gastronomica, come la Fano di Vitruvio e come la Fano nel plenare. Insomma, delle strategie individualizzate che cominciano a dare gli effetti positivi. E poi abbiamo anche sul Corriere Adriatico un piccolo resoconto del funerale che si è svolto ieri per dare l'addio a Sara Lucarelli, stroncata a 44 anni da una brutta malattia. E poi un altro articolo, Dusman, incarico prorogato. Dusman è la ditta che gestisce l'alimentazione nelle mense cittadine, le mense dei bambini. E la gestisce in modo ammirevole, tant'è che è stata premiata Fano per la bontà e la salubrità degli alimenti che vengono dati ai bambini. C'è da dire che non tutti sono così d'accordo per quanto riguarda il gusto dei cibi che vengono serviti. C'è una piccola percentuale che è dissente, sembra che sia del 4%, ma il contesto invece è largamente positivo. Menù scolastico primo in Italia. La Lega ai bimbi non piace, dice l'opposizione, ma è solo il 4%. Passiamo a Fossombrone. Saltamartini non ci rassicura e non risponde sui disservizi, si parla dell'ospedale di comunità. Parlano così due esponenti dell'opposizione, la consigliera regionale Vitri del Partito Democratico e Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto delle interrogazioni sulla carenza dei servizi. Ma Saltamartini è un po' sfuggito alle domande che le sono state rivolte. E poi ancora sulla pagina di Senigallia vediamo un articolo di cronaca. Spallate alla fidanzata, lui la difende, mi hanno pestato con il tirapugni. Ebbene, è accaduto in una discoteca. Una mandibola rotta a un giovane cuoco. Dopo la lite che è avvenuto nel locale, l'aggressore è stanato grazie ai social. Ero andato, racconta il ragazzo, con la mia fidanzata a prendere un drink. Quando stavamo tornando nei nostri amici, lei è stata presa a spallate da alcune persone. Ho cercato di chiarire, c'è stata una discussione e sono stato aggredito. Mi hanno sferrato un pugno, addirittura con un tirapugni, un cazzotto, un cazzotto che mi ha fatto perdere i sensi. Addirittura sembra che gli hanno rotto una mandibola. veramente un effetto superiore, ovviamente, alla causa del litigio. E questo dimostra come, certe volte, il nervosismo superi poi la normale tolleranza. Sembra che l'aggressore sia stato un romeno. Gli era stata diagnosticata la frattura della mandibola, probabilmente causata dal cazzotto inferto con il tirapugni. Il giovane si era dovuto sottoporre poi ad un'operazione chirurgica. Pensate che cosa è accaduto. E siamo in conclusione. Vediamo le notizie dell'apertura di Pesaro. Si parla di Rocca Costanza. Ecco qua l'articolo. Le magie da capitale per Rocca Costanza. La rinascita in due fasi. Ebbene, nel quadro delle iniziative di Pesaro Culturale Nazionale della Cultura non si è dimenticati di Rocca Costanza, che è oggetto di un progetto che si dilunga per più anni, fino al 2026. Tra questi ci sarà anche il Museo per il Centenario della Nascita di Franca Rame, che dovrebbe essere concluso addirittura oltre il 2026, tre anni dopo, nel 2029. Comunque nel 2026 il Museo dovrebbe essere fruibile già per qualche settore nel centenario della nascita di Dario Fo. Nel 2025 si aprirà il cantiere vero e proprio per la ristrutturazione della Rocca che riguarderà l'archivio di Stato. E poi sarà liberata una porzione dei sotterrani e la cosiddetta della Cavallerizza. Questo per quanto riguarda questo monumento che è stato usato sempre per scopi diversi da quello culturale, che invece dovrebbe essere valorizzato per attrarre ancora i turisti. E siamo in conclusione. Con questo chiudiamo la nostra pagina del Corriere Adriatico e io vi do appuntamento, come sempre, a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie. 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 Grazie.